Ciao a tutti ragazzi per tornare in questo nuovo video Oggi giocheremo a Roblox Roblox, sì Ma a Brokeve Che mi guardi? Nicolandia Non mi chiamo Nicolandia Chiamo Nicco Come sono quelle? Il sandalo Il sandalo Ragazzi vediamo Ok Happy Easter Raga Sembra che ci Pasqua oggi Oh hanno decorato tu L'ho decorato Che bella Le macchine di Pasqua Le macchine di Pasqua Bappappappiraporc Bappappipapικuse Bappappili Bappappтер purple Bappappaledo Rj放心 Ahuhu Ma se le caso solo Vari Oh Vediamo la prima una si è decorata comunque più 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 sto reagendo perché ho la skin di freddy ho fatto una cosa bellissima comunque nonostante nonostante ma perché william a 13 giorni non hai fatto video ragazzi vi dico la cosa bacini bacini mi sto facendo dare i bacini d'amico bacini bacini ok andiamo con questa cosa e questo è lunedì nonostante 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 ok ci prendiamo una macchina di Pasqua azione è il culo che fa un culo che è il culo che hanno perforazione nonostante nonostante una macchina di Pasqua la coppola la coppola Grazie a tutti.